Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Ridotto a quattro ore lo sciopero del trasporto pubblico indetto per venerdì dal sindacato USB. La protesta di venerdì dunque che interessa le linee di Atac, Roma TPL e Cotral. Dopo l'intervento del governo è stata ridotta a quattro ore e sarà dalle 9.30 alle 13.30. Ulteriori dettagli e aggiornamenti sono su romamobilita.it